Un sorriso da solo a volte non basta per aiutare gli altri, ma qualche ora di impegno alla settimana o al mese, quello sì, può fare la differenza. Non importa la quantità, ma la qualità del tempo che si dedica a chi ha bisogno. Si chiama volontariato e a Piacenza è un mondo in continuo movimento e in crescita. Un esercito fatto da 20.000 volontari e 340 organizzazioni presenti sul territorio, la maggior parte nel settore dell'assistenza sociale e della sanità, con particolare attenzione ai bisogni di anziani, disabili e minori. Ma chi sono i volontari? Il 53,3% è rappresentato da persone con un lavoro, i pensionati sfiorano il 40%. A tirare le fila di questo puzzle di associazioni ci pensa lo SWEP, centro di servizio per il volontariato attivo a Piacenza dal 97 e che fornisce assistenza gratuita. I servizi che lo SWEP dà e che sono conseguente la legge 266, che è la legge che ha istituito i centri di servizio, sono assolutamente gratuiti per tutte le associazioni. Ecco dunque, chiunque abbia un problema, se l'associazione dovesse trovarsi in una situazione dove non sa che cosa fare, io immagino che lo sappiano tutti ormai dopo tanti anni, che lo SWEP è a loro disposizione. Però lo ribadiamo e ringrazio voi che mi date questa opportunità. Lo SWEP può risolvere, tentare di risolvere tutti i problemi che un'associazione dovesse avere. Tra i 20.000 volontari spicca un dato particolarmente positivo, quello dei giovani fino ai 29 anni, che rappresentano il 12% e sono in aumento. Ci rendiamo conto che non è facile per un giovane lo studio, lo sport, il tempo libero, giustamente fare anche volontariato. Però questo numero è confortante. Evidentemente i giovani hanno una sensibilità particolare, dobbiamo davvero fare in modo che questa sensibilità venga coltivata e non tagliare le gambe. Che caratteristiche deve avere un volontario? Soprattutto quanto tempo impiega fare volontariato? Ma guardi, io dico una cosa, le associazioni chiedono al volontario che volesse avvicinarsi, volesse dare una mano, chiedono solo quello che può dare il volontario, nulla di più e nulla di meno. Per cui le persone che così volessero avvicinarsi al volontariato, all'associazione, fossero frenate un po' dal, ma chissà se ce la faccio poi il tempo, se sarò capace, eccetera, non abbiano questo timore, ecco io li invito davvero a non avere questo timore.